Nuova udienza in tribunale ad Avellino sulla strage del bus che nel luglio 2013 provocò la morte di 40 pellegrini di Pozzuoli. Particolarmente interessante la deposizione di Dario Mainiero, agente della polstrada di Avellino che ha ricostruito i minuti immediatamente successivi alla tragedia. Raggiunsi il luogo dell'incidente in 20 minuti partendo dalla mia casa di Mercogliano. Ho fatto gli ultimi 200 metri a piedi, ho visto la coda dei veicoli lungo l'autostrada, li ho controllati attentamente uno ad uno e non c'erano autotrainate. Circostanza questa di grande rilievo perché l'avvocato difensore dell'autista Gennaro Lametta ha riferito di un veicolo in traino che avrebbe costretto il suo assistito ad una brusca manovra e alla frenata che avrebbe poi causato l'incidente. Mainiero si è poi soffermato sull'attività di indagine svolta presso la motorizzazione civile di Napoli, raccontando che non è mai stata trovata la prenotazione che corrisponde al pagamento della tassa di revisione del bus. Inoltre al comune di Cercola non c'è traccia della licenza di autonoleggio intestata a Ilametta per cui il bus non poteva circolare. Infine parlando dell'ingegner Saulino, uno degli imputati per la falsa revisione del bus, Mainiero ha chiarito che nel giorno della presunta revisione sul mezzo della Mondo Travel, Saulino avrebbe effettuato 21 revisioni in 162 minuti, dato certificato dagli orari di ingresso e uscita dagli uffici della motorizzazione. Un numero pari a 7 minuti e 40 di media per ogni veicolo, dato tecnicamente impossibile. Prossima udienza il 10 marzo, quando verranno ascoltati quattro consulenti della Procura. Entro il 31 dello stesso mese verrà esaurita la lista di testi presentata dalla Procura.